Le DTX e l'intelligenza artificiale velocizzano la scoperta di nuove molecole. Lo ha spiegato Federico Chinni, componente giunta di Farmindustria, che abbiamo incontrato in Senato alla presentazione del primo DTX Monitoring Report sulle terapie digitali e l'avanzamento del sistema legislativo. Una iniziativa promossa dall'onorevole Simona Loizzo è organizzata da Indicon Società Benefit, con il supporto di Ladies First. Quali sono le iniziative di Farmindustria nell'ambito della medicina digitale, delle DTX e della trasformazione digitale in generale? Io più in generale parlerei di quelle che sono oggi le traiettorie di sviluppo dell'industria farmaceutica in quest'ambito. In particolare direi che c'è un tema molto importante, che è tutto quello relativo all'intelligenza artificiale. Oggi l'industria sta sempre più lavorando, soprattutto in un ambito di scoperta delle molecole, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. E questo ha tutto vantaggio ovviamente della velocità di portare le molecole sul mercato. Il secondo grande elemento io lo identificherei ovviamente in tutte le possibilità che ci sono di collaborazione col sistema sanitario nazionale, ovviamente per renderlo sempre più efficiente anche dal punto di vista della digitalizzazione. Un esempio su tutto, io penso che per esempio le tecnologie digitali debbano essere inquadrate per esempio all'interno dei modelli di presa in cura, cioè non possono essere scomposte, non possiamo pensare che l'innovazione digitale sia e funziona in quanto tale, ma va inserito ovviamente in un percorso di cura e modelli di presa in carico per le diverse patologie. E come sta evolvendo il mercato? Un mercato che oggi è in fase nascente, abbiamo diversi paesi che hanno delle regolamentazioni che hanno anche consentito di attrarre moltissimi investimenti in questi paesi, penso alla Germania, penso agli Stati Uniti, e quindi anche oggi l'Italia sta provando ad affrontare il tema della regolamentazione. Noi come industria siamo particolarmente interessati perché pensiamo che oggi ci siano dei bisogni critici estremamente importanti che le terapie digitali potrebbero aiutare a risolvere. Penso in particolare che le terapie digitali lavorino sui comportamenti dei pazienti e c'è un lavoro del WHO, quindi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice proprio come a livello di determinanti di salute un 20-30% sia proprio collegato ai nostri comportamenti. Esercizio fisico, lifestyle, fumare, non fumare, pensiero positivo, eccetera. Quindi il loro posizionamento potrebbe essere estremamente interessante da questo punto di vista. E in questo ambito cosa ci suggerisce il primo DTX Monitoring Report? Credo che qui la cosa che io giudico più interessante è come il processo attivato sia quello di aver ascoltato i vari stakeholder. Cioè credo che oggi la salute, il mondo della sanità sia un mondo estremamente complicato e quindi non si possa arrivare a delle soluzioni semplici e prese in maniera isolata tra i diversi stakeholder. Quindi anche noi come Farmindustria stiamo provando a ragionare e a poter portare anche la nostra prospettiva e credo che questo sia lo stimolo più giusto e il modo più corretto ovviamente per procedere ed arrivare anche ad una norma che consenta l'accesso gratuito anche nel nostro Paese delle terapie digitali.